Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, situazione per la giornata di domenica con impulso instabile che lambirà il medio alto versante adriatico in prima mattinata, poi tornerà il bel tempo dappertutto, durante il pomeriggio locali fenomeni sull'Appennino. Alta pressione che di fatti nei prossimi giorni si estenderà dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia, alta pressione richiamata da questa zona di bassa pressione dall'oceano verso la penisola iberica. Nel dettaglio possiamo osservare quindi una giornata con della variabilità e qualche locale fenomeno in mattinata sul medio alto versante adriatico, poi bel tempo, durante il pomeriggio brevi piovaschi sull'Appennino meridionale. In sintesi, la mappa dell'Italia possiamo notare tempo assolato, a parte la variabilità mattutina sull'Alto Adriatico, durante il pomeriggio locali spot temporaleschi sull'Appennino meridionale ed il Cilento. Il clima estivo dappertutto, un caldo moderato. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.